Il maggior veicolo di queste reazioni, perché ricordiamolo che le allergie non sono altro che una reazione naturalmente eccessiva dell'organismo a dei germi, degli allergeni che diciamo estranei al nostro corpo, è l'atmosfera che è emessa a dura prova da veri e propri terremoti climatici, dal surriscaldamento globale, dai disastri ambientali. Questi cambiamenti anche in futuro influenzeranno la presenza di pollini, insetti e muffe che sono tutte legate a queste malattie allergiche. Le piogge abbondanti di questi giorni, di questi mesi, questo è stato un inverno molto piovoso, uno pensa che risolvono il problema perché lavano, purificano, invece aggravano la situazione perché favoriscono le condizioni e l'habitat per gli allergeni. Anzitutto un saluto ai telespettatori di questa importante emittente che riesce attraverso questi incontri a dare o a cercare di dare delle risposte che i telespettatori talvolta hanno bisogno ma hanno difficoltà a trovare. Nell'esperienza quotidiana si riscontra un aumento dei casi legati all'allergia. L'allergia è un vasto capitolo, è un capitolo che chiaramente siamo nella stagione primaverile, per cui chiaramente ci sono le allergie primaverili. La primavera si riveste la natura, è bellissima, si apre il cuore, però maledetta primavera... Il titolo non è casuale in questo caso. Non è casuale, è chiaro che si apre la porta ed è effettiva la percentuale che lei accennava. Quattro italiani su dieci vanno incontro a problemi legati a queste pollinosi perché il polline delle piante è il vero responsabile perché in primavera c'è questo rigoglio della natura attraverso l'impollinazione, però i pollini che vengono trasportati dal vento e che chiaramente attraverso la pioggia si decubblicano, che si spezzettano, diventano sempre più imponenti, chiaramente arrivano all'organismo. In questo periodo le cupressacee, è vero? In questo periodo le cupressacee, diciamo le cupressacee, i cipressi, di cui si abbonda in Toscana, di cui si abbonda in Liguria, ma anche da noi, anche se viene utilizzata come pianta da cimitero, erroneamente, perché è una bellissima pianta, chi di noi entrando in Toscana non rimane attratto da quel bellissimo paesaggio e carducci, davanti sanguito, però ahimè, questa bellissima pianta, soprattutto nei bambini, porta questo polline che entra a contatto con l'organismo e per cui c'è una risposta che è sempre individuale. Per questo tipo di risposta, per questa quantità di allergene che entra a contatto, l'organismo entra a difendersi. Sì, perché in effetti l'allergia è una difesa, è una difesa eccessiva, però lo è, insomma, come l'influenza, come la febbre, la febbre non è altro che una reazione, una risposta a qualcosa di estraneo che entra nel nostro organismo. Paradossalmente più c'è difesa, più c'è sofferenza. Ed è chiaro che a un certo punto attraverso l'istamina l'organismo libera questa sostanza e per cui si scatenano una serie di reazioni. Che poi, ho detto bene, sono diversi in ognuno di noi perché c'è chi ha l'arinite, chi ha l'asma, non so, chi ha la congiuntivite, di cui parliamo tra un attimo, chi ha, non so, altre cose, il prurito, le dermatosi, insomma un po' questa primavera è portatrice di un sacco di problemi. Sì, è un quadro variegato che chiaramente dipende da dove l'organismo è più sensibile e da dove l'organismo, tra virgolette, è più debole. Per cui chiaramente l'80% di noi di questo periodo già lo starnuto. Lo starnuto è l'arrivo della primavera, per certi versi. Lo starnuto è, molte volte... Salutiamo la primavera con gli starnuti. Con gli starnuti. C'è chi lo fa con le trombe e noi lo facciamo con il naso. Certo, lo starnuto. Lo starnuto chiaramente è l'indice dell'entrata in contatto con questo polline che chiaramente il naso cerca di difendersi, il naso che chiaramente può diventare, può avversi la rinorrea, può avversi difficoltà respiratoria, ma le reazioni dell'organismo possono scendere un poco più giù fino a determinare i veri e propri fatti asmatici come un'incapacità dell'organismo di sapersi difendere altrimenti e per cui si vanno incontro a quelle famose crisi d'asma che chiaramente sono pericolose e che vanno trattate con attenzione e chiaramente andando sempre alla causa. Ecco, quando arrivano questi sintomi di cui stiamo parlando, parlava lei, il prurito al naso, i raffreddori, le riniti o anche cose più serie, le tossi o l'asma, cosa consiglia e prescrive lei, il medico in genere, agli adulti e anche ai più piccoli. Bene, la prima cosa è l'anamnesi, è la storia del paziente, tutto incomincia di là, sapere dove abita, l'habitat che gli sta attorno, sapere che attenzione dà alla propria salute, dopodiché se sono episodi che vanno a ripetersi c'è la necessità di rivolgersi allo specialista, all'ergologo e che provvederà chiaramente a tipizzare la causa che scatena questo. E ci sono delle indagini da fare, mi riferisco che è stata fatta vedere una bellissima immagine di un prick test, quei test cutani che si fanno dopo scarificazione della cute, si inietta una serie di sostanze sospette, per cui se c'è l'arrossamento, se c'è il gonfiore, allora noi siamo certi che il paziente è affetto da allergia legata a quella sostanza, per cui chiaramente e soprattutto nei bambini si può pensare, ipotizzare, di difendersi con l'arma vaccinica. Però al momento, i rimedi del momento sono gli antistaminici, importanti, diffusi, eccetera, eccetera, dove c'è solo un effetto che bisogna tenere ben presente, l'antistaminico porta sonnolenza, anche se gli ultimi generazioni ci parlano di superamento, di attenuazione di questa cosa. E poi chiaramente nei momenti più esplosivi c'è il cortisone. Il cortisone è un'arma micidiale che stabilisce subito all'organismo salute, però va saputo a usare. Sì, certo. Anche perché poi il cortisone in effetti che cosa fa? Deprime le difese immunitarie. Deprime le difese immunitarie. Come dire, ti disarmo con il cortisone, quindi non sei più reattivo come prima, quindi giustamente ci sono poi controindicazioni. Sì, c'ha tanti effetti collaterali il cortisone. Ha saputo usare. Non è un farmaco da autoprescrizione. Il farmaco dove il paziente deve essere guidato dal medico, perché ci sono gli effetti gastrolesivi, perché ci sono gli effetti sul metabolismo, ci sono gli effetti sull'ipertensione. Per cui chiaramente il paziente va guidato nella terapia. Chiaramente gli antistaminici e i cortisonici hanno varie forme di utilizzo. Mi riferisco all'utilizzo degli spray per quanto riguarda il naso, mi riferisco all'uso delle pomate cortisono-sensibili, cortisoniche, che chiaramente, come pure i prodotti per via orale, compresse di antistaminici o cortisonici, o addirittura nei casi drammatici, dove c'è l'asma, un'asma contenibile con le iniezioni, nei casi gravi, in cui bisogna intervenire più rapidamente. Ecco, tra gli organi più colpiti da queste sindrome terribili, che poi sono legate a la stagione più bella, quella che introduce l'estate, cioè la primavera, tra gli organi più colpiti, dicevamo, da queste sindrome allergiche, l'occhio e la congiuntiva. Spieghiamo cos'è questo arrossamento, come reagisce l'occhio quando si irrita, cosa si deve fare per lenire. Ecco, vediamo in questa animazione la, diciamo... Sono delle bellissime immagini. La sclera, è delle bellissime immagini che danno perfettamente l'idea. L'idea, che cos'è la congiuntiva? Diciamo subito che sono immagini girate, animazioni russe, che noi ovviamente prendiamo da internet, citando sempre rigorosamente la fonte. Quindi cosa bisogna fare prima che sopravvengano complicazioni? Qui c'è la lacrimazione. Ecco, io vi faccio i complimenti perché effettivamente la foto illustra tutto. L'arrossamento, la lacrimazione, la fotofobia, questa difficoltà alla luce, per cui il paziente ha questo senso irrefrenabile di toccarsi, di grattarsi e quindi di aumentare ancora di più l'arrossamento. Per cui tutti i consigli vanno dati nel senso di individuare la causa, chiaramente attraverso il Prick Test, attraverso un esame del condotto lacrimale, se all'interno troviamo l'IGE, che aumenta proprio quando c'è un'iperreazione dell'organismo. Ma chiaramente la prima cosa e il primo consiglio da darsi al paziente è non toccarsi, perché le mani sono un veicolo di diffusibilità anche all'altro occhio, a un occhio, all'altro occhio e poi chiaramente di mettere in atto tutta quella serie di iniziative pomate con l'IRI che possono dare all'occhio arrossato, ridare l'occhio alla sua normalità. Poi c'è questa immagine adesso che praticamente riproduce l'appannamento della vista, quando c'è la congiuntiva irritata, si vede anche male, quindi si sconsiglia la guida quando si ha una congiuntivite. Certo, questo è un altro degli effetti per cui bisogna, la persona che sa di essere affetta da questa congiuntivite che va ripetendosi nelle stagioni primaverili, deve sottoporsi immediatamente ad indagini, perché una situazione che potrebbe essere, che lo è così banale, può alla guida essere cagionevole di incidenti, per cui diventi pericoloso per te stesso, affetto da congiuntivite ma anche per la salute degli altri. Diciamo che in questi casi le cose più elementari, più banali sono quelle di innanzitutto non toccarsi giustamente, poi quello di non strofinarsi con il fazzoletto, ma di sempre di utilizzare con cautela le mani, le dita o comunque i fazzoletti di carta, ancora peggio. Poi allontanarsi dall'allergene, perché se so che l'allergene X è la polvere di casa, è chiaro che va fatto un discorso indirizzato di bonifica ambientale, per cui la muffa, lei ne parlava all'inizio, la muffa raccoglie l'acaro, per cui chiaramente la muffa va tolta, va tolta la causa della muffa che è l'umidità, perché la muffa alberga nell'umidità, però chiaramente bisogna risolvere il problema. Lo strumento più semplice e più economico è la canteggina, è l'uovo di Colombo, però chiaramente permette di ridare all'ambiente. Poi chiaramente i miei consigli, per esempio lavarsi i capelli tutti i giorni, farsi il bagno tutti i giorni e poi quando si entra in casa togliersi le calzature, perché le calzature stesse possono essere un vettore della causa dell'allergia, per cui una bonifica ambientale. Chiaramente attenzione all'aspirapolvere e attenzione alle mochette, attenzione alle tende, perché proprio nell'abito, chi soffre di allergie deve avere una stanza cruda, nuda. E bisogna andare per esclusione, cioè cambio la tenda, tolgo il tappeto, lo cambio e andando per esclusione piano piano... arrivare indirettamente, per i bambini, per le bambine, che in casa ci sta il bambolotto di pezza, anche quello deve essere eliminato. Ecco qui c'è l'immagine di una lentina, di una lentina ottica artificiale che anche essa può essere causa di... di allergie da contatto. Sì. E questo impegna molto, perché chi usa questa lentina chiaramente lo fa per ragioni sia di utilizzo, per vederci meglio, ma anche forse per ragioni estetici. Però in queste circostanze, laddove si ripetono queste congiuntivite, bisogna essere trassi, bisogna toglierle. Sì, perché c'è un rapporto dosso-effetto e nel rapporto dosso-effetto è chiaro togliere la lentina, che è il mezzo estraneo che chiaramente scatena la congiuntivite.